Cos'è che fai? Sono scritto tu moglie. Cosa vuol dire? Scopriamo tu moglie. Cosa? Non parla di porta bianca scopriamo una moglie. Cos'è che vuoi? Guarda che ti avevo detto che veniva mio marito. Così lui fuori testa. Sta cercando urbina, cocaina, cazzo vuoi lui. Ok. Va faccio col tuo e la polizia. Perfetto, benissimo.